Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una strategia di trading molto molto interessante ma soprattutto semplicissima da mettere in atto. Ovviamente questo video è rivolto a tutte le persone che già conoscono cos'è il trading e già sanno almeno guardare un grafico, quindi do per scontato questa cosa. Questa è una strategia di trading che possiamo utilizzare a qualsiasi time frame ma per come ve l'andrò a mostrare io l'andremo a vedere a time frame a un minuto. Quindi quello che vi farò vedere è una strategia che si può mettere in atto per fare scalping perché non sa cos'è lo scalping. Scalping vuol dire fare trading in un modo molto più frequente quindi andando ad approfittare comunque degli sbalzi che hanno comunque i prezzi sul mercato nel giro di pochi minuti e quindi trarre profitto. Quindi stiamo parlando di una strategia di trading a questo time frame, quindi un minuto che comunque ti tiene impegnato davanti allo schermo a meno che tu non metti take profit e stop loss. Ma adesso andiamo a vedere in che modo si può utilizzare questa strategia perché effettivamente ci sono due modi. In primis andiamo ad impostare gli indicatori che ci servono e quindi capiamo come funziona. Allora mi trovo sul grafico di Bitcoin, su TradingView quello che dobbiamo fare è aggiungere degli indicatori o meglio un indicatore per tre volte. Andiamo su indicatori qui in alto e cerchiamo EMA, ok? Media mobile esponenziale. Quindi la aggiungiamo tre volte, quindi tre click e ce la ritroveremo qui sulla sinistra. A questo punto dobbiamo modificare dei parametri di questi indicatori. La prima EMA dobbiamo impostarla a 50 periodi. Ok, 50, clicchiamo ok. La seconda su 100 la terza su 150 ok? Una volta impostati i parametri ovviamente andiamo a modificare pure il colore per vedere meglio comunque le linee che si vanno a formare sul grafico. Ok, una volta che abbiamo cambiato i colori abbiamo impostato comunque un EMA a 50 periodi un'altra EMA a 100 e l'altra a 150 possiamo iniziare. Come funziona questa strategia? Allora, qui vediamo che sul grafico si sono create comunque delle linee ok? Che ci fanno vedere, ci mostrano effettivamente il prezzo dove sta andando se siamo su un trend rialzista oppure ribassista. La linea bianca corrisponde all'EMA 50 ok? Quindi questa linea bianca, l'EMA 50 ci mostra, diciamo, l'andamento del grafico in un breve termine ok? Mentre invece quella a 100 e a 150 ci fa vedere il grafico con una panoramica più a lungo termine. Quindi ci sono queste tre linee sul grafico come vediamo e quello che dobbiamo fare la strategia fondamentalmente è come funziona funziona in questo modo. Innanzitutto dobbiamo capire se ci troviamo su un trend rialzista o ribassista. In questo caso, quando vediamo queste tre linee che vanno comunque verso l'alto e sono separate tra di loro questa cosa è molto importante vuol dire che siamo su un trend rialzista ok? Se le vediamo che vanno verso il basso come in questo modo e sono separate tra di loro ci stanno ad indicare un trend ribassista ok? La strategia funziona in questo modo. Vediamo un po' se troviamo qualche opportunità. Allora mettiamo caso che vediamo il grafico su questo punto qua. Vediamo che c'è un trend ribassista questa è la nostra media mobile a 50 periodi 100 e 150. Quello che dobbiamo fare è aspettare che il grafico quindi il prezzo vada a rimbalzare sulla linea sulla media mobile a 100 periodi ok? Quindi qui nel momento in cui mi va a creare questa candela verde poi successivamente una russa e quindi mi sta ad indicare che vuole andare in ribasso quello che devo fare io è aprire una posizione a ribasso ok? Short ovviamente su Binance questo non è possibile possiamo solo acquistare una cripta e quindi puntare long quindi al rialzo quello che possiamo fare è utilizzare Bybit vi lascio qui sotto magari il link in descrizione dove potete registrarvi che vi permette di fare trading sia long che short ok? Quindi nel momento in cui vediamo che il prezzo ha rimbalzato su questa linea a 100 periodi quindi la linea centrale e successivamente si è creata una candela russa qui possiamo andare ad aprire la nostra posizione quindi per farvi un esempio apriamo la nostra posizione qui e a questo punto come andiamo ad impostare il nostro take profit e stop loss il take profit è l'impostazione che ci permette di uscire da questa operazione al profitto che noi abbiamo scelto ok? Quindi io dico voglio guadagnare tot quando il prezzo arriva a quel punto lì mi ferma l'operazione mi vende le cripto e via lo stop loss a differenza del take profit mi fa scegliere quanto sono disposto a perdere per quell'operazione quindi mi fa già impostare degli ordini e quindi il prezzo quando si va a muovere se tocca lo stop loss si ferma e mi fa perdere solo quello che io ho deciso di perdere ok? In questo caso qui andiamo a mettere lo stop loss un po' più sopra ok? Un po' più sopra della chiusura di quest'ombra vediamo no? Quindi la mettiamo un po' più su qui ci sta bene perdonatemi si era bloccato ho trovato un'altra situazione comunque simile a quella precedente per farvi fare sempre l'esempio siamo rimasti qui abbiamo messo il nostro stop loss qui no? Ok? Abbiamo deciso che questo deve essere il prezzo di vendita e quindi vogliamo limitare la nostra perdita e il take profit lo dobbiamo mettere nel punto in cui dobbiamo diciamo arrivare ad un rischio rendimento 1 a 5 questo cosa vuol dire? Ad esempio lo vediamo qui no? 1.55 noi arriviamo 1.5 più o meno e cosa vuol dire? Vuol dire che noi per ogni operazione che andiamo a fare tentiamo di vincere ad esempio 15 nel caso in cui andiamo a perdere perdiamo 10 ok? Quindi per ogni operazione ci sarà questo rischio rendimento mi sembra ovvio che dovete poi impostare voi il take profit e lo stop loss con diciamo l'exchange che poi voi andate ad utilizzare questo che vedete qui è solo uno strumento che vi permette di vedere diciamo sul grafico dove avete messo lo stop loss e il take profit eccetera eccetera quindi mettiamo il nostro stop loss un po' più sopra vedete quest'ombra no? noi lo mettiamo un po' più sopra qui lo stop loss apriamo l'operazione subito dopo il completamento di questa candela quindi successiva alla verde quindi se sarà rossa e rimbalzerà su questa media mobile al 50 periodi allora apriamo la nostra posizione qui ok? apriamo questa nostra posizione short ovviamente perché ci troviamo su un trend ribassista e mettiamo il nostro stop loss e take profit quindi vediamo il grafico che si muove ok? se il prezzo va a toccare qui mi chiude la posizione in perdita ma io sono ancora comunque nell'operazione rimbalza ancora il prezzo su questa media mobile come vediamo e poi mi va a prendere il take profit quindi in questo caso sarei riuscito comunque ad andare in profitto poi successivamente possiamo trovare altre operazioni del genere ad esempio andiamo qui andiamo a vedere pure questo esempio magari per farvi capire per bene come metterla poi in atto se vediamo che succede questo no? che una candela verde va a superare la nostra media mobile al 100 periodi non dobbiamo aprire posizione ok? soprattutto quando vediamo che succede questo quando si intrecciano le medie mobili scappiamo dal grafico ok? non dobbiamo operare magari cerchiamo qualche altra occasione va bene? perché quando vediamo questo il prezzo è instabile quindi non sappiamo se va in rialzo oppure in ribasso quindi stiamo completamente fermi anche perché poi vediamo che la candela successiva si è chiusa proprio sopra questa media mobile quindi non si è chiusa sotto e poi infatti subito dopo non si capisce poi dove voleva andare il grafico va bene? quindi andiamo a vedere un altro esempio qui qui ci accorgiamo che siamo su un trend rialzista qui la stessa cosa vedete eravamo su un trend rialzista vediamo il prezzo che buca la media mobile a 50 periodi dovreva rimbalzare qui e poi crearmi una candela verde per poi aprire la posizione non l'ha fatto e infatti mi ha creato un'altra candela russa ok? per poi scendere fino a giù andiamo ancora avanti vediamo se troviamo qualche altra occasione vediamo un po' qui quando vedete queste cose scappate come già vi ho detto perché è tutto molto instabile non riuscire a capire il prezzo dove vuole andare ok qui ci troviamo su un trend rialzista ok? il prezzo è andato a bucare la media mobile a 50 periodi e poi è arrivato sulla media a 100 periodi ok? anche qui come vedete ha bucato anche la media mobile a 100 periodi e io non mi sarei fidato non avevo aperto nessuna posizione ok? vediamo ad esempio questo trend rialzista ok? vediamo che le medie mobili sono comunque separate non sono intrecciate qui possiamo vedere che il prezzo ha bucato la media mobile a 50 periodi ci sta qui è andato al di sotto della media mobile a 100 periodi non avrei aperto la posizione ma qui successivamente qui vediamo che è andato a rimbalzare sulla media mobile a 100 periodi e dopo questa candela russa come vedete rimbalza sulla media mobile a 100 periodi mi crea una candela verde e qui sarei andato ad aprire la mia posizione una posizione long quindi al rialzo l'avrei aperta qui stop loss sempre un po' più sotto dell'ombra che noi vediamo ok? quindi lo mettiamo comunque qui take profit per capire dove lo dobbiamo mettere andiamo a vedere sempre qui il rendimento 1.5 ok? quindi mettiamo 1.5 ok più o meno ci siamo e in questo momento possiamo vedere che comunque saremo andati in profitto ok? quindi è questa la strategia che noi dobbiamo comunque adottare dobbiamo evitare queste situazioni così perché comunque sono incerte e dobbiamo sempre tener conto che la cosa più importante è fare più operazioni in profitto non ci interessa fare tanti soldi in un'unica operazione ma fare tante operazioni la maggior parte dell'operazione comunque in profitto che possono capitare quelle che vanno in perdita è tutto normale ok? quindi è normale che ci siano in questo caso siamo sempre su un trend ribassista quindi vediamo le tre medie mobili comunque sono distanti tra di loro il prezzo va a scendere e nel momento in cui il prezzo rimbalza va a bucare la media mobile a 50 e rimbalza sulla media mobile a 100 periodi possiamo aprire la nostra posizione quindi in questo caso aspettiamo questa candela verde ok? avremmo aspettato questa candela verde con quest'ombra successivamente la chiusura di quest'altra candela rossa ok? a ribasso quindi apriamo la nostra posizione qui stop loss un po' più in alto dell'ombra che noi vediamo qui take profit andiamo a cercare il nostro 1.5 ecco qui ci siamo e quindi saremo andati in profitto ovviamente avremmo potuto pure aprire la posizione qui ok? magari se ce la sentivamo non è andato proprio a rimbalzare qui ma comunque ci sta ok? ci poteva stare questa operazione sempre 1.50 più giù ok e quindi profitto ovviamente non è una strategia magica che vi risolve i problemi della vostra vita può fallire ci sta è normalissimo però magari se seguita la lettera vi può portare dei buoni risultati questo è il primo modo per utilizzare questa strategia c'è un secondo modo che quello diciamo senza take profit è solo con lo stop loss cosa vuol dire? vuol dire questo qui facciamo sempre l'esempio qui io vado ad aprire la mia posizione short a questo punto metto solo il mio stop loss qui non metto il take profit ok? quindi lascio correre se il prezzo va a mio favore quindi il prezzo scende 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 nel momento in cui va a scendere io sposto il mio stop loss ora faccio così è più chiaro ad esempio se il mio stop loss è qui e il prezzo da questo punto in poi va a scendere quindi arriva qui io prendo il mio stop loss lo sposto più in giù ok? il prezzo continua a scendere va comunque a mio favore io sposto solo il mio stop loss più in giù in questo modo massimizzo i profitti e riduco le perdite perché anche se poi successivamente il grafico mi va a toccare lo stop loss sarò comunque in profitto chiuderò l'operazione in profitto ok? quindi il prezzo scende 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 io abbasso ancora il mio stop loss il prezzo continua a muoversi fino poi ad arrivare al mio stop loss e quindi la differenza è questa se nel primo caso mi va a toccare lo stop loss con una perdita ok? quindi porto con me una perdita in questo caso mi va a toccare lo stop loss ma seguendo comunque il prezzo vado a massimizzare quello che è il profitto perché riesco a fare molto di più e nel momento in cui mi va a toccare lo stop loss però comunque porto sempre un profitto a casa ok? secondo me questa è la strategia migliore a parer mio questa è una delle tantissime strategie che conosco e che comunque esistono veramente ne sono tantissime e se volete ve ne porto altre in modo tale che poi voi potete confrontare l'una con l'altra e magari vedete qual è più adatta a voi quindi riepilogando come impostare la strategia abbiamo bisogno di tre indicatori che poi è sempre lo stesso ma abbiamo bisogno di utilizzarlo per tre volte ok? sono tre EMA una la impostiamo a 50 la seconda a 100 la terza a 150 gli andiamo a cambiare colore per una maggiore visibilità e poi andiamo a scegliere quale strategia attuare quella con lo stop loss e take profit oppure con lo stop loss in movimento verso comunque la direzione a nostro favore spero che questo video vi sia stato utile e noi ci becchiamo alla prossima ciao